Hello children, it's always me, Mrs. Spelling, che vi aiuta a fare gli esercizi di questo bellissimo libro. Allora, dobbiamo decidere se scrivere negli spazi can oppure can't, posso o non posso, sono in grado di o non sono in grado di. Allora, vediamo un po'. Li conoscete i fumbles? Slow ball è in grado di rotolare, roll, scrivete can o can't. Poi abbiamo lady jug, è in grado di cantare? Sing. Police can, è in grado di scrivere? Write. I can write oppure I can't write. Airplane, è in grado di volare? Fly. Mancake, luminofrittella, è in grado di sorridere? Smile. Poi abbiamo pencil vase, pencil vase può attraversare la strada con il rosso? Lui è in grado di farlo, ma lo può fare o no? Can e can't. Can he or can't he cross? E poi abbiamo glue berry. Can he wave? Può salutare? Non ha le mani, state attenti. Coraggio, completate l'esercizio. Vai! Ciao! Grazie a tutti.